Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto Oggi voglio presentare questa fantastica Volkswagen Golf 8 2000 turbo diesel 150 cavalli Cambio automatico DSG nella versione Style Vettura grigio delfino metallizzato dell'anno 2020 di dicembre con 15.000 km La vettura è super super accessoriata Fari full led posteriore con anche questa strisciolina in mezzo che si accende I fari sono tecnologie EQ Vetri posteriori oscurati, ruote in lega E abbiamo anche i fari full led posteriori con indicatori di direzione dinamico La vettura è un ex dipendente Volkswagen Praticamente nuova Ed è in perfettissime condizioni A 15.000 km Gli interni li vedete sono in alcantara e stoffa Sono perfetti Sedile a regolazione elettrica con funzione massaggio Specchietti richiudibili elettricamente Guardate, vedete la vettura è come nuova praticamente Veramente come nuova Andiamo a vedere La galea posteriore Ampio e spazioso con dispositivo carico passante Questa vettura ci è appena arrivata Fresca fresca Versione style Quindi sedili sportivi Alcantara e stoffa Andiamo a vedere la parte posteriore a destra La vettura come vedete è in perfettissime condizioni Non ha nessun graffio, nessuna riga, nessuno spelo E' perfetta Andiamo ora a vedere gli interni Qua è tutto digitale Cambio automatico DSG Abbiamo addirittura il volante riscaldato Quindi di tutto e di più Sedili riscaldati Volante multifunzione Cruise control attivo Palette al volante Volkswagen Lane Assist Gli specchietti che si chiudono elettricamente Vedete è una macchina accessoriatissima Navigatore bluetooth Abbiamo anche la retrocamera Con sensori parcheggio Clima automatico a tre zone Volkswagen Connect C'è qualsiasi roba su questa vettura La vettura la trovate da Bianco Auto Motta di Consiglione d'Assi Venite a vederla e provarla Perché ne vale veramente la pena E ha tre anni di garanzie Che valgono in tutta Europa e in tutta Italia Ciao a tutti amici E alla prossima